Più di 154 milioni di euro erogati in 30 anni a 200.000 tra aziende, lavoratori e artigiani della Lombardia, di cui 110 milioni liquidati ai dipendenti e 44 milioni alle imprese relativi a provvidenze e contributi a fondo perduto a sostegno di reddito, formazione, nuove assunzioni e investimenti. È il risultato ottenuto da Elba, l'ente lombardo bilaterale dell'artigianato, costituito il 5 marzo del 1993 da Confartigianato, CNA, CLAI e Casa Artigiani della Lombardia in rappresentanza dei datori di lavoro e CGL e Cisle Will della Lombardia per i lavoratori che compie 30 anni di attività. E a Sondrio sono quasi 4 milioni erogati a 5.000 tra lavoratori e aziende, in tutto il 2,4 dei fondi utilizzati in regione. Oltre la metà delle erogazioni Elba negli ultimi 30 anni, è stata destinata al settore metalmeccanico, a seguire moda e legno arredamento, acconciatura estetica e chimica gomma plastica a vetro. Elba è un ente no profit che sostiene l'artigianato lombardo con una serie di contributi a fondo perduto rivolti sia ai lavoratori sia alle imprese del settore.